Questa moneta viene stampata da una banca che noi costituiremo, chiamata Banca Libera dell'Umbria. Come la costituirò? Noi abbiamo un residuo fiscale di un miliardo di euro che ogni anno l'Umbria dà a Roma. Io, presidente della regione Umbria, non glielo darò più. Tratterrò il miliardo di euro e lo darò come capitale alla Banca Libera dell'Umbria, che stamperà questa moneta. Io sto copiando un certo Schacht, grande economista tedesco, che aveva 8 milioni di disoccupati, in tre anni li ridusse a un milione, quindi aveva un metodo eccezionale per combattere la disoccupazione. Cosa fece Schacht? Fondò la Metallurgische Forschunggesellschaft, che vuol dire Società per la Ricerca Metallurgica. Ma non era una società per la ricerca metallurgica. Era una società che dava finanziamenti alle imprese. E lui, dando obbligazioni garantite dallo Stato, non moneta, faceva girare questa obbligazione fra tutte le imprese. Quello che farò io in Umbria. Io prenderò, costituirò la società per il finanziamento delle imprese Umbria, farò girare delle obbligazioni garantite perché questi soldi li diamo alle persone, ma alle imprese daremo le obbligazioni garantite dalla Regione. E se qualcuno vuole cambiare l'obbligazione, può andare alla nostra banca regionale dell'Umbria, libera dell'Umbria, e noi glielo cambiamo. Però dico alle imprese, non lo fate. Perché mi costringerete a mettervi addosso ancora le tasse. Se invece voi fate girare le obbligazioni garantite fra di voi, io vi butto giù immediatamente le tasse. Oggi un'impresa paga il 60% di tasse per ogni persona che assume. E' un punto fondamentale. La lotta per la sicurezza di cittadini Umbria. Ho chiamato il generale Angelo Pellegrini, dei Carabinieri in congedo, che per 22 anni ha lavorato insieme a Falcone. Guardami, lotta contro l'andrangheta. Lottami contro la corruzione politica. Dai sicurezza ai cittadini che vivono tranquilli. Nessuno si deve permettere di toccare una donna. Attenzione, oggi in Umbria il 7,8% dei femminicidi accade in Umbria. Siamo al primo posto in tutta Italia. Una cosa vergognosa. Dobbiamo combattere contro qualsiasi tipo di violenza. Io sono un carabiniere, un uomo di legge. Sono un uomo di legge e farò rispettare la legge a tutti.